Sono entrato in contatto col mondo Indiba Active attraverso un approccio di collaborazione se non ricordo male nel lontano 2002 è dal 2005 che il nazionale di rugby si utilizza in maniera continuativa e costante ha un momento massimo di utilizzo nel post partita quindi nel recupero di tutte quelle situazioni che possono essere contusioni traumi articolari quindi da distorsivi contusioni muscolari quando si fa un trattamento di tecarterapia la sensazione è solitamente una sensazione piacevole che può essere legata alla percezione di calore o meno cioè in cui noi utilizziamo principalmente la biostimolazione e non l'effetto legato all'ipertermia che si può produrre e quindi alla vasodilatazione che andiamo a ricercare nei tessuti. Il valore aggiunto è una diminuzione importante dei tempi di recupero possiamo osservare dei notevoli progressi che probabilmente non riusciremo ad ottenere utilizzando semplicemente la nostra manualità. Indiba Active viaggia sempre con noi è stata studiata un'apposita valigia che permette di imbarcare l'apparecchiatura nella stiva dell'aereo senza essere danneggiata e quindi in tutti i tipi di trasferimento anche quelli molto lunghi all'emisfero sud Indiba Active ha sempre viaggiato e accompagnato nei nostri tournets. Gli atleti della nazionale italiana rugby hanno sicuramente un approccio molto positivo nei confronti di Indiba Active perché ne sentono il beneficio. Nel lavoro quotidiano che effettuiamo durante la giornata standard cerchiamo di organizzare il lavoro in maniera tale che utilizziamo questa apparecchiatura e successivamente utilizziamo le manualità, in questo caso il trattamento osteopatico trovando la struttura già predisposta al trattamento con un stato di tensione più fisiologico rispetto a prima di effettuare il trattamento con Indiba Active. L'atleta sente che la parte trattata, se si tratta di una parte prettamente muscolare, decontrae via via che si esegue il trattamento e quindi si sente un senso di libertà e manifesta anche verbalmente a fine del trattamento un miglioramento sia del sintomo che appunto delle possibilità di muovere meglio i propri arti. Indiba Active mi permette, lavorando in sinergia, di dare il massimo possibile per il benessere della trattamento.